60 anni dell'Ivv e devo dire che è davvero un onore festeggiare questo traguardo che speriamo sia il primo o poi di tanti altri per questa azienda che io dico sempre ci rende orgogliosi di essere sangiovannesi, un'azienda che è un singolo per la nostra città ed è da sempre parte attiva del tessuto non solo produttivo ma davvero socio-economico di San Giovanni. Io devo anche ringraziare l'Ivv per il contributo che dà sempre profonde nel sostegno alle attività culturali e di promozione del territorio della nostra città perché devo dire che l'Ivv anche negli anni più bui c'è sempre stata e San Giovanni non può che rendere omaggio a questa grande azienda e quindi io insomma mi auguro che la mostra sia visitata da tante persone, è una mostra come ricordava il Presidente Pellegrini poi di ricordi insomma e io sarei davvero molto contenta che tanti sangiovannesi e non solo la visita a Asser. Un libro importante di Sirio Sarchi che è stato il primo Presidente dell'industria vetragale internese e anche un sindaco importante per la nostra città, un sindaco che ha fatto tanto per San Giovanni e grazie al quale insomma San Giovanni si è poi sviluppata per quella che è e quindi devo dire tanti auguri bubu e insomma poi speriamo che da qui in avanti sia tutta discesa per l'azienda. Grazie. Grazie.